Condannato a quattro anni. Ho trent'anni e sono in carcere, senza istruzione e condannato a quattro anni. La mia prigione è in lutto perenne. Questo mese due si sono suicidati e ogni giorno entrano trenta reclusi in più nel ventre nascosto della città. La metà di noi ha problemi di droga e la nostra vita è una porta girevole che da una parte si apre alla tossicodipendenza, allo spaccio e ad altri reati, mentre dall'altra si apre al carcere. Io non so se sto peggio quando mi buco in un angolo di dolore o quando guardo dalla cella il cielo crivellato di stelle. Commento. Invece stai bene comunque. Quando ti buchi e fuggi la vita fisica e quando guardi dalla cella il cielo crivellato di stelle, entrambi gli stati di coscienza servono a farti superare la limitazione che ti spinge a drogarti.